Nel pomeriggio di venerdì 15 aprile, Birch si avviò verso la camera mortuaria col carro e il cavallo per trasportare la salma di Matthew Fenner. Egli ammise in seguito che non era perfettamente sobrio, lucido di mente, benché a quel tempo non si fosse dato così perdutamente al bere come fece poi nel tentativo di dimenticare certe cose. La giornata era limpida ma si era levato un forte vento e Birch fu lieto di trovarsi al riparo quando, aperto il massiccio portone di ferro, entrò nella cripta, nella camera mortuaria, scavata nel fianco della collina. Un altro forse non avrebbe trovato di suo gusto quello stanzone umido e quegli odori stagnanti e nauseabondi con le otto bare posate qua e là. Ma Birch a quel tempo non badava certe cose e gli interessava soltanto prendere la bara giusta e metterla nella fossa giusta. La luce era scarsa ma la vista di Birch era buona ed egli non scambiò la bara che cercava per quella di Asaf Sawyer anche se erano della stessa misura. Quest'ultima infatti egli l'aveva preparata in origine per Matthew Fenner ma alla fine l'aveva scartata perché troppo misera e sconnessa in uno strano eccesso di sentimentalismo suscitato dal ricordo della gentilezza e generosità dimostratagli dal vecchietto cinque anni prima. Egli dedicò quindi al vecchio Matt quanto di meglio il suo ingegno poteva produrre ma ebbe la prudenza di conservare anche quel lavoro di scarto e di usarlo quando Asaf Sawyer morì di febbre e maligna. Sawyer non era un uomo molto ben visto e si raccontavano molte cose sul suo carattere vendicativo del feroce accanimento che metteva nel ricordare e ripagare i torti reali o immaginari che aveva ricevuto. Birch non aveva avuto il minimo scrupolo ad assegnargli la bara mal riuscita che ora spinse da una parte per cercare quella di Fenner. Fu proprio nel momento in cui aveva individuato la cassa del vecchio Matt che la porta si chiuse per un colpo di vento ed egli si trovò immerso in una oscurità più profonda ancora di prima. In questa funeria penombra presa a sbattacchiare convulsamente le maniglie arruginite e a dar grandi spallate contro i pannelli di ferro e di colpo intuì la verità. La serratura così a lungo trascurata aveva finito per rompersi lasciandolo intrappolato nella camera mortuaria. Questo deve essere accaduto verso le tre e mezzo del pomeriggio. Birch che aveva un carattere calmo e tranquillo smise ben presto di urlare e si diede a cercare a tastoni certi strumenti che ricordava di aver visto in un angolo della stanza. Raggiunto ben presto il mucchio di arnesi e preso il martello e uno scalpello Birch rifece fra una bara e l'altra il percorso fino alla porta. Poi quasi alla ceca cercò di scardinare il pesante e corroso metallo della serratura senza neppure accorgersi che l'aria andava facendosi sempre più pesante e fetida. Avrebbe dato qualsiasi cosa per una lampada o per un pezzo di candela ma non avendola si arrabbattava meglio che poteva. Quando capì che non c'era speranza di forzare la serratura si guardò intorno cercando altre vie di evasione. Si guardò intorno cercando altre vie di evasione. Sopra la porta molto in alto l'architrave formava una fessura della facciata di mattoni e forse lavorando con tenacia non sarebbe stato impossibile allargarla. Il vero problema era raggiungere quella via di salvezza. Non c'era una scala nella camera mortuaria. Restavano solo le bare stesse come possibili scalini per l'ascesa e non appena gli balenò questa soluzione Birch senza il minimo scrupolo prese a studiare il miglior modo di metterla in pratica. Tre bare sovrapposte calcolò gli avrebbero permesso di raggiungere l'architrave. Tre bare sovrapposte calcolò gli avrebbero permesso di raggiungere l'architrave ma con quattro sarebbe stato più comodo. Doveva essere all'incirca mezzanotte quando Birch decise che ormai poteva passare. Stanco e sudato nonostante le numerose soste discese dalla piattaforma e sedette sulla prima cassa a riprendere le forze per la manovra finale e il salto a terra dall'altra parte del muro. Ma nel risalire sulle bare sgangerate una cosa sola a un tratto gli si fece presente. Il peso del proprio corpo. Soprattutto quando nel mettere il piede sulla bara più alta udì quel crepitio secco che precede il cedimento completo del legno. Evidentemente non era servito a nulla scegliere la bara più robusta per la sommità della catasta. Non appena si trovò con tutta la sua mole su di essa il coperchio marcito si sfondò facendolo ricadere mezzo metro più in basso su qualcosa che perfino lui avrebbe preferito non immaginare. Birch in quella macabra posizione era adesso troppo basso per infilarsi facilmente nel varco che aveva allargato ma raccolse tutte le sue energie deciso a tentare ugualmente. Si aggrappò ai bordi dell'apertura e fece per tirarsi su a forza di braccia quando si accorse di uno strano impedimento. C'era qualcosa che sembrava trattenerlo per tutte e due le caviglie e un istante dopo per la prima volta in quella notte ebbe paura. Infatti per quanto si sforzasse non riuscì a strapparsi dalla morsa che imprigionava inesorabilmente i suoi piedi. Dolori terribili come pugnalate inflitte con selvaggia violenza gli trafissero i polpacci. Forse gridò comunque scalciò e si divincolò freneticamente mezzo svenuto e mezzo impazzito dal dolore e dalla paura. L'istinto lo guidò nel balzo attraverso il varco lo spinse ad allontanarsi strisciando dal punto in cui era piombato malamente sulla terra umida. Non poteva camminare e la luna vide certamente uno spettacolo orribile. Un uomo che trascinava le caviglie sanguinanti verso la casa del custode del cimitero. Armenton il custode del cimitero aiutò Birch a straiarsi su un letto disponibile e mandò il figlioletto Edwin a chiamare il dottor Davis. Il ferito non aveva perduto conoscenza ma non voleva dare nessuna spiegazione e si limitava a mormorare parole come le mie caviglie molla molla oppure chiuso nella cripta. Poi venne il dottore con la sua valigetta fece poche domande e tolse al paziente i vestiti le scarpe e le calze. Le ferite alle caviglie parvero mettere il vecchio medico in uno stato di grande perplessità e quasi spaventarlo. Le sue domande si fecero sempre più pressanti e le sue mani tremavano mentre medicava quelle caviglie dilaniate e le bendava come se volesse nascondere le ferite al più presto possibile. Quella notte uscendo il dottor Davis preso una lanterna e si diressa alla vecchia camera mortuaria. Entrò e si guardò intorno reprimendo la nausea fisica e mentale che gli dava l'odore e la vista di ogni cosa. Una sola volta gettò un grido e poco dopo emise un gemito che fu più terribile di un grido. Poi ritornò correndo da Birch e ruppe tutte le regole della sua professione svegliando e scuotendo il suo paziente e rovesciandogli addosso un fiotto di parole tremanti. Era la vara di Asaf, Birch, proprio come pensavo. Conoscevo i suoi denti con gli incisivi superiori mancanti. Non mostrare mai per amor di Dio quelle ferite. Tu sai che era diabolico nelle sue vendette. Era il demonio incarnato, Birch, un uomo capace di vincere il tempo e la morte pur di vendicarsi. Perché l'hai fatto, Birch? Era un brutto tipo, lo so. E se gli hai dato una bara di scarto? Tanto peggio per lui. Ma hai sempre avuto la mano troppo pesante maledizione. Va bene farcelo stare a tutti i costi. Ma tu sapevi com'era piccolo il vecchio Fenner. Occhio per occhio, giusto il Dio, Birch, ma tu meritavi quello che hai avuto. Quelle caviglie, troncate di netto per farlo entrare nella vara scartata di Matt Fenner.